Terrore a Marano. Colpo in gioielleria nel pieno centro. I banditi arrivati su un'auto della Gori sono entrati nella gioielleria Esposito muniti di fucili a pompa. Il colpo è andato a segno. I malviventi sono usciti dal locale con i fucili in mostra, rompendo le vetrine con il calcio delle armi sotto gli sguardi increduli di decine di passanti e automobilisti. Una scena da film con i banditi, quattro secondo il racconto di alcuni testimoni in fuga su una panda di colore bianco. Non hanno sparato neanche un colpo, non ci sono stati feriti, ma tutta la dinamica ha lasciato increduli i presenti. Naturalmente qualcuno ha preso al balzo l'evento per giocare dei numeri all'otto, in attesa questa sera che possano uscire.